è già primavera e siamo già nella stagione importante per iniziare a prenderci cura della nostra pelle perché i raggi solari saranno più caldi e quindi dobbiamo difenderla anche dall'interno con i giusti nutrienti ho pensato oggi di presentarvi un succo vivo quindi un estratto con degli alimenti che ci offre la natura che sono proprio alleati della bellezza della pelle per cui non potevano mancare le carote ricchissime di beta carotene il precursore della vitamina A che proprio aiuta a proteggerci dai radicali liberi che sono i nostri più grandi nemici e anche il pomodoro il pomodoro è ricco di vitamina C di licopene e quindi carotenoidi sempre tutti nutrienti fondamentali per il benessere della pelle e poi aggiungo del sedano il sedano è altamente idratante è diuretico è drenante è ricchissimo di sali minerali anch'essi fondamentali per diciamo proprio come anti age anti invecchiamento anche per la pelle adesso andiamo a mettere tutto all'interno dell'estrattore se non avete un estrattore potete utilizzare una dose più piccola e fare un frullato magari aggiungendo dell'acqua fresca oligo minerale e fare un bel frullato io ho pensato proprio come se fosse un sughetto di pomodoro invece di cuocere lo andiamo a mettere tutto a crudo ecco qua il nostro succo è pronto come avete visto non ho tolto la parte esterna delle carote perché è ricchissima di proprietà importanti per cui lavatele bene spazzolatele ma non eliminatela ecco qua il nostro succo vivo è pronto da bere se volete potete unire cubetti di ghiaccio ma anche per esempio un pizzico di sale